La pressione di Omicron rischia di mandare in tilta gli ospedali italiani. Il professor Dario Manfellotto. Gravi problemi di organico. Solo nei pronto soccorso mancano 8.000 infermieri e 4.000 medici. Nelle terapie intensive ogni 4 pazienti, 3 non sono vaccinati. Il sistema sanitario è tutto sotto pressione e le carenze di organico già croniche in condizioni normali si fanno molto sentire. La pressione di Omicron sugli ospedali continua a crescere ed è destinata ad aumentare nei prossimi giorni. I contagi rischiano di rendere l'organizzazione degli ospedali veramente difficile e complicata. Il professor Dario Manfellotto, presidente dei medici internisti ospedalieri della Fadoi. Cosa bisogna fare? L'organizzazione degli ospedali sta andando in tilt, abbiamo problemi quotidiani e basti per esempio il caso di un ospedale romano. In pronto soccorso, 13 infermieri tutti contagiati e quindi mandati in isolamento. La chirurgia ha dovuto trasferire i suoi infermieri in pronto soccorso. L'attività della chirurgia è stata ovviamente bloccata. Quanto il sistema sanitario può reggere di fronte a questa pressione di Omicron? Noi abbiamo difficoltà organizzative, abbiamo soprattutto difficoltà di personale. Si sa che mancano nei pronto soccorsi 8.000 infermieri, 4.000 medici, altrettanti nei reparti di medicina interna e nell'area medica. Quindi sicuramente questa difficoltà cronica di personale è un altro dei problemi organizzativi enormi. I ricoverati sono soprattutto non vaccinati con problemi seri, gravi. I non vaccinati purtroppo hanno una malattia più grave e infatti nei reparti di terapia intensiva tre pazienti su quattro sono non vaccinati e hanno un quadro di malattia molto molto critico. La strategia da seguire e da adottare per un'organizzazione è veramente efficiente? Credo che i medici, internisti, gli ospedalieri in generale, gli infermieri debbano essere di numero maggiore, debbano essere meglio valutati e aiutati nel loro lavoro quotidiano.